Non so se me l'ero persa io nella puntata della domenica, probabilmente sì o se ne hanno fatta un'altra oggi, non lo so, comunque c'è un'altra ragazza qui nella scuola di amici, lì nella scuola di amici, non è che qui, non sto parlando della mia cameretta, lontanissimo dagli studio e lontanissimo dalla mentalità di un talent E spesso è volentieri critico e condanno ma non in questo caso, la ragazza si chiama Nicole, ha due palle quadrate e ha portato una vera e autentica hit Vabbè la Pettinelli, io ragazzi faccio un casino con i nomi, l'ho seguito amici l'anno scorso ma non mi sono imparato i nomi, so chi è Rudy Zerbi, so chi è quella ma credo si chiami Pettinelli però magari mi sbaglio Comunque, l'ha abbassata ma non ci ha capito un cazzo, perché sto pezzo poteva sembrare la solita formula e sì e certo se vuoi vederlo con l'occhio critico è la solita canzonetta, il solito reggaeton un po' così Ma questo brano che cos'ha di diverso? Che in fondo certe canzoni, visto che è stato già detto tutto, non conta quanto siano uniche ma che arrivino così come sono Qual è la differenza tra un cantante che emula la canzonetta pop del cazzo e il cantante che invece la fa? È una questione proprio di percezione, cioè o lo capisci o non lo capisci Perché se dobbiamo andare a schematizzare tutto nella musica allora non ci rimane niente, allora veramente non ha senso farla la musica perché non è così che funziona C'è un cuore, c'è un'anima, c'è un discorso anche di musicalità, quindi sì questa è una canzone pop reggaeton che se vogliamo giudicare la possiamo giudicare Ma ci sono delle cose che in qualche modo arrivano e queste cose non dipendono dalla canzone ma da chi la canta nella maggior parte dei casi E quindi questo brano che come l'ascolti tu già capisci che è una hit, questa se la passano in radio diventa un tormentone Ne sono sicuro, sono certo che questa canzone è piaciuta alla maggior parte della gente che l'ha sentita E si differenzia dalle solite canzonette che hanno portato gli altri proprio da questo perché lei non ha cercato di fare la hit, l'ha fatta e basta Poi che palle sta ragazza, due coglioni enormi, quando quella gli ha detto guarda la solita canzonetta già sentita lì ha detto ammazza che complimento Bam proprio, l'ha buttata a terra e Rudy lo sa bene Come diciamo investire su certi ragazzi, sa chi sono i volti su cui investire tempo Ok, certo ragazzi è chiaro che non stiamo a parlare di una canzone che non si sa cos'è Però già che ti parte con lo sento nell'aria Non è la classica frasetta, no? Lo sento nell'aria, mi è piaciuto proprio questo inizio Fondamentalmente il brano parla di questa sensazione che una persona ti stia cercando Mi viene in mente io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te Non so dove sei, non so che cosa fai, ma so di certo che mi stai cercando Ok, Battisti insomma per intenderci, però è chiaro che non c'entra un cazzo la canzone questa che è con Battisti Però il concetto è quello fondamentalmente La musica è vero, si ripete, però qui come te la fa? Come te la porta? Sto ritornello? Come te lo pompa? Eh ragazzi, questo è forte, basta San Nicole c'ha i coglioni Sa cantare C'ha il suo stile, chiaro, non è un tenore, non è un soprano Però sa cantare Quello che fa, lo fa bene Si vede che è una che c'ha i controcoglioni Lo ripeto mille volte, non mi stanco di ripeterlo È sicuramente interessante da approfondire Non è la classica bella ragazza, capito? Quella che fa vedere che è figa No, no, questa C'ha un'altra tipologia, c'ha un'altra bellezza Che sta negli occhi Si chiama determinazione Questa c'ha gli occhi della tigre, capito? E non puoi non mandarla avanti Dopo che mandi avanti una manica di debosciati Quindi di conseguenza C'è anche da dire appunto che Tu, cioè questa è forse la canzone Che è già pronta La canzone che la devi solo lanciare Quindi a livello pop Forse è la canzone più bella Delle adizioni di amici Non mandarla avanti Era veramente Una mancanza di rispetto Nei confronti proprio del programma Cioè se tu mi fai una tipologia di selezione diversa E quindi tu mi selezioni Solo persone che fanno un certo musica di qualità Voglio creare una classe Dove avremo i nuovi Sergio Endrigo E beh, ok Allora non devi prendere nessuno Devi fare un'altra Cioè Alla preselezione deve arrivare altra gente Perché nessuno merita quel banco Ma nel momento in cui Tu mi fai una classe Una selezione di un certo tipo Questa roba qua Non puoi non prenderla Perché sei un ipocrita altrimenti Bella per Nicole Per questo inedito Ne vedremo delle belle